Cultura, ambiente e tecnologia, sono queste le parole d'ordine del protocollo siglato tra la città di Matera e Terna per la razionalizzazione della rete elettrica del Comune Lucano. Un'intesa, ha spiegato l'amministratore delegato della società che gestisce la rete elettrica nazionale Luigi Ferraris, ricca di significati. Siamo molto contenti di siglare questo accordo perché è la rappresentazione dello sforzo che stiamo facendo di portare avanti un modello di partecipazione progressiva delle comunità, delle istituzioni, nelle opere che facciamo e che sviluppiamo sul territorio. Siamo in una splendida città, una città che è al centro della cultura mondiale e quindi come tale meritava sicuramente un'attenzione particolare. In questo senso abbiamo firmato questo accordo che prevede degli interventi di miglioramento e di ottimizzazione della nostra presenza sul territorio, limitando sempre di un più l'impatto visivo e quindi l'impatto ambientale. Il confronto con la cittadinanza, ha voluto sottolineare Ferraris, riveste quindi un ruolo molto importante nella riuscita del progetto. Per noi è un dovere, nel senso che riteniamo giusto e corretto rappresentare alla cittadinanza quello che stiamo facendo, condividere il progetto nelle sue componenti, ascoltare le osservazioni della comunità, dei cittadini che vivono ogni giorno questa città in modo a poter arrivare ad avere un risultato che sia di miglioramento della rete elettrica, di miglioramento dell'efficienza del sistema energetico e di piena accettabilità e condivisione da parte della cittadinanza. La Didi Ternasi è quindi soffermata sugli aspetti tecnici e sulla tempistica. Direi che l'impatto più importante sarà l'interramento di una linea aerea per circa 6,5 km che prevede la restituzione di circa 37 ettari di terreni ai cittadini. Quindi anche questo fa parte dello sforzo, come dicevo prima, di miglioramento del nostro impatto ambientale, non solo un impatto positivo in termini di impatti ambientali ma anche e soprattutto ricadute occupazionali perché comunque stiamo parlando di lavoro anche per le comunità locali. C'è tutto un percorso di autorizzazione da portare avanti però riteniamo che nell'arco dei 5-10 anni si chiuda tutto il processo di razionalizzazione di Matera. A mettere in evidenza il felice connubio tra Terna e Matera è stato quindi il sindaco Raffaello De Ruggeri. E' un discorso di coerenza. Matera è una città che da cortocircuiti creativi, Terna è produttore e trasmistore di energie, Terna e Matera sono due catalizzatori straordinari che possono esprimere il valore del nostro tempo. Lo stesso primo cittadino ha quindi rimarcato le ricadute paesaggistiche ed economiche del protocollo. Il valore ambientale è indubbio come fatto preminente ma dietro a questo valore ambientale c'è un investimento di 13 milioni di euro che sono anche questi importanti per dare ancora maggiore forza a un'economia territoriale. Quindi un investimento forte che è legato a riproporre con maggior vigore la qualità urbana, la qualità paesaggistica, quello che si chiama la veduta della città perché obiettivamente questi elettrodotti erano feriti aperte nel tessuto territoriale di Matera.